Un fine settimana all'insegna della gastronomia e del gusto, quello appena trascorso a Belluno, si è tenuta infatti la quindicesima edizione del concorso dei formaggi di latteria e di malga che ha visto protagoniste in camera di commercio 23 aziende produttrici e ben 41 tipi diversi di formaggio. La manifestazione è stata organizzata da Coldiretti Belluno con il sostegno della strada dei formaggi e dei sapori delle dolomiti bellunesi e ha avuto come obiettivo la valorizzazione dei prodotti caseari locali, vero e proprio patrimonio, frutto della passione e del talento dei produttori del territorio. Perché i formaggi? Perché sono una delle eccellenze della provincia bellunese, in particolare i formaggi di malga e i formaggi delle alte montagne ed è un modo per valorizzare, per riconoscere le attività produttive, per riconoscere la qualità di questi prodotti. Presenza importante di giovani, giovani imprenditori, soprattutto in alpeggio, quindi sulle malghe, ma anche nei piccoli caseifici e produttori anche magari di prodotto un po' particolare come prodotto caprino o pecorino. È stata interessante la valutazione dei formaggi di capra e ovini e misti, è stata molto molto interessante perché fra il primo e l'ultimo della classifica c'erano solamente tre punti di differenza, quindi una omogeneità che punta verso l'alto. L'iniziativa è stata anche l'occasione per puntare i riflettori su alcune problematiche che interessano il mondo dell'agricoltura. Spesso non viene riconosciuto il giusto valore dei prodotti agricoli e zootecnici che produciamo, tutto quanto sta aumentando di prezzo sia gli alimenti per gli animali, sia i materiali, gasolio, energia e questi aumenti non si stanno riflettendo in ugual modo sul prodotto che andiamo a vendere, quindi in questo momento l'agricoltura sta soffrendo tantissimo, stiamo producendo sotto costo.